Siamo sconcertati ed anche preoccupati per quanto verificatosi ieri mattina alle opere dei madonnari della legalità realizzate in Viale Regina Margherita che sarebbe dovuto restare chiuso per evitare che vedessero danneggiate e farle ammirare ai cittadini. A parlare sono Riccardo Lavecchia e Giuseppe Paliglia, responsabili dell'Associazione di Impegno Civico e Antimafia Tecnopolis e amici del giudice Rosario Angelo Livatino, dopo che ieri mattina hanno saputo e poi constatato che nonostante l'ordinanza sindacale di assoluta chiusura al traffico di Viale Regina Margherita per tutta la giornata di sabato e di ieri, una spazzatrice comunale alle 6.30 aveva provveduto a pulire e lavare una parte della carregiata dove erano state realizzate la metà delle opere. Siamo sgomenti perché il gesto o la disattenzione sono di una gravità inaudita, dicono i due presidenti, visto che potrebbe avere il senso, e di fatto lo è stato, di cancellare almeno in parte le opere artistiche dei madonnari disegnano la legalità realizzata nel quadro dell'iniziativa in memoria dei giudici Saite e Livatino. La vecchia e Palilla hanno informato dell'accaduto il sindaco chiedendogli di avviare un'inchiesta interna perché se è vero che l'affermazione della legalità passa anche per gesti ed opere simboliche è altrettanto vero che la spazzatrice ha di fatto cancellato questi segnali rivoluzionali fatti dai giovani. Pur non volendo capri e spiatori, concludono la vecchia e Palilla, è doveroso fare chiarezza anche su questo fatto perché ormai in città e fuori sono accaduti numerosi episodi che meriterebbero il dovuto approfondimento anche perché nel nome di Saite e Livatino di antimafia e legalità di facciata sono in molti che cercano patenti e accreditamenti. Il sindaco da parte sua ha assicurato che farà chiarezza sull'accaduto pur anticipando la buona fede del personale operante anche se c'era un'ordinanza di interdizione al transito in vigore anche per l'intera giornata di ieri.